Dopo la bandiera blu, Capaccio Pestum per il primo anno ottiene dalla FEE anche la certificazione di Spiga Verde. La consegna dei riconoscimenti si è tenuta ieri martedì 27 luglio attraverso una cerimonia ufficiale svoltasi online. Nato nel 2015, il riconoscimento Spiga Verdi è un programma della FEE Italia realizzato in collaborazione con Confagricoltura che premia la sostenibilità dei comuni rurali. Il suo obiettivo, cioè guidare i comuni rurali a scegliere strategie di gestione del territorio, tali da giovare all'ambiente e alla qualità della vita della comunità. Il programma promuove le buone pratiche agricole nel rispetto delle diverse realtà territoriali, anche per valorizzare il patrimonio rurale di ogni comune. La commissione che assegna le Spiga Verdi è composta da diversi enti istituzionali, tra i quali i Ministeri dell'Ambiente, della tutela del territorio del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Spiga Verde è un riconoscimento per i comuni rurali che equivale alla bandiera blu per i comuni di mare. Ebbene, dichiara il Sindaco Alfieri, Capaccio Pestum per la prima volta può freggiarsi di entrambe le certificazioni rilasciate dalla FEE. Il nostro è un territorio vasto e variegato, non semplice da gestire, ma le due certificazioni unite alle tre vele di lega ambiente e al riconoscimento di comune ciclabile FIAB dimostrano quanto incisivo sia l'impegno che stiamo mettendo in campo per valorizzare al meglio le ricchezze che esso ci offre, in modo non solo da renderlo ancora più appetibile per i turisti, grazie alle eccellenze no gastronomiche legate alle buone pratiche agricole, ma soprattutto più vivibile per i cittadini.